Ciao, sono Martina del blog di Cucito la Dulzatina. In questo video vi mostrerò i righelli per la modellistica che utilizzo per creare, ricalcare o modificare i cartamodelli con precisione. Vi mostrerò le varie tipologie, le differenze tra un righello e l'altro e come si utilizzano nella pratica. In particolare in questo video vi mostrerò come li utilizzo per ricalcare un cartamodello e per aggiungere i margini di cucitura. Una delle domande che ricevo più di frequente infatti su Instagram il mercoledì nella giornata dedicata alle domande libere è quali righelli acquistare. Ho deciso quindi di creare un video dedicato a questo argomento per rispondere alle vostre domande e chiarire i vostri dubbi. Ecco qui i miei righelli, ve li presento. Ho una squadra grande da 60x24 cm, un righello universale o graduato da 15x30 cm, un curvilinee, due regoli che sono uguali identici solo che uno in plastica e l'altro in metallo. Con ognuno di questi strumenti posso fare in maniera molto semplice due cose, tracciare delle linee e aggiungere i margini di cucitura. Visto che svolgono tutti la stessa funzione vi starete chiedendo, immagino, perché non mi basta averne solo uno. In realtà è vero che con tutti questi strumenti potete tracciare linee e aggiungere margini, ma ogni strumento ha una propria peculiarità ed è più comodo per tracciare un determinato tipo di linea. Vediamoli insieme nel dettaglio. Partiamo dalla prima funzione, il tracciare o ricalcare le linee. Vedremo come utilizzare ogni strumento per aggiungere i margini successivamente per non creare confusione. Partiamo dalla squadra 60 x 24 cm. Io utilizzo questa squadra soprattutto per tracciare linee lunghe e perpendicolari. L'avevate già vista all'opera nel tutorial del maxicollo in lane pile. L'avevo utilizzata per tracciare un rettangolo con il gesso direttamente sulla stoffa in maniera semplice e veloce. La lunghezza 60 cm è perfetta perché è molto comoda per tracciare le basi dei cartamodelli ai centri davanti e dietro, che devono essere perfettamente perpendicolari all'inizio dell'orlo e del collo. In questo video ricalcherò un cartamodello di una canotta tratto da burda a maggio 2020, in particolare il modello 111. Per ricalcare un pezzo parto sempre dal centro davanti o dietro e dall'orlo. Mi segno il punto di unione delle due linee con la matita, posizionando la squadra in modo che sia esattamente sulle linee del cartamodello da ricalcare e traccio la L di base. In questo modo sono sicura che il centro davanti è esattamente a 90 gradi rispetto all'orlo ed eviterò angoli antiestetici sul capo. La stessa cosa vale anche per la linea del fianco e dell'orlo, devono essere perpendicolari per evitare che quando unisco i due fianchi si creino degli angoli. In questo modo l'orlo sarà perfetto e senza spigoli nell'unione dei due pezzi. Passiamo ora al curvilinee. Il curvilinee è lo strumento che permette di realizzare delle linee curve in maniera molto semplice ed è perfetto per scolli, giro manica, orli, fianchi o qualsiasi altra linea curva. Quando lo acquistate troverete delle istruzioni per l'utilizzo. Conservatele, non buttatele perché sono molto utili per capire tutte le modalità di utilizzo del curvilinee. Vediamole insieme. Questa parte del curvilinee può essere utilizzata per tracciare il giro manica. Con le parti curve potete disegnare anche la manica. La parte curva può essere utilizzata per tracciare sia il davanti sia il dietro della manica semplicemente ruotando il curvilinee. La parte con la curva più stretta può essere utilizzata anche per tracciare gli scolli. Ha una parte dritta che può essere utilizzata per disegnare le spalle. La parte con la curva più morbida, questa qui superiore, può essere utilizzata per curve meno strette come per disegnare la vita. A seconda della tipologia di linea potete utilizzare il curvilinee anche specchiandolo. Può essere utilizzato anche per disegnare dei pantaloni. La parte con la curva più stretta per il cavallo, la parte con la curva più morbida per l'interno gamba. Vi consiglio insomma di custodire con cura le istruzioni soprattutto se siete alle prime armi. Possono essere di grande aiuto, le trovate anche per la squadra che vi ho mostrato prima. Per tracciare le curve potete in realtà utilizzare anche questa che può essere infatti utilizzata anche come curvilinee. Come potete notare qui trovate delle curve incise. Corrispondono esattamente alla curva più stretta del curvilinee. Vedete che se li sovrappongo corrispondono perfettamente. Questa curva inferiore corrisponde invece esattamente alla curva più ampia del curvilinee. Perché quindi io preferisco avere entrambi anche se la squadra potrebbe svolgere anche la funzione di curvilinee? Perché il curvilinee è più piccolo e maneggevole e per fare le curve mi ci trovo meglio. Perché il curvilinee ha una linea continua mentre la squadra ha solo delle curve incise. E perché ha i centimetri disegnati sulla curva? Questo è molto utile per misurare velocemente le linee arrotondate. Se però siete alle prime armi e volete iniziare acquistando uno strumento alla volta vi consiglio di partire sicuramente dalla squadra che svolge la funzione di squadra righe e curvilinee per poi aggiungere gli altri strumenti in un secondo momento per agevolare e velocizzare il vostro lavoro. Quindi in pratica per me la squadra è lo strumento base essenziale seguito poi dal curvilinee. Torniamo al nostro curvilinee. Vi faccio vedere come lo utilizzo per tracciare le linee. Dopo aver tracciato il centro davanti proseguo nel ricalcare il modello. Devo ora tracciare lo scollo. Prendo quindi il curvilinee e cerco di trovare la curva corrispondente alla linea che devo ricalcare. Se non trovate la curva corretta in un verso potete utilizzarlo ribaltandolo. In questo caso è meglio utilizzarlo nel primo verso. Lo faccio poi scorrere finché non trovo la porzione di curva che combacia perfettamente con la linea del cartamodello che devo ricalcare. Una volta trovata la traccio. Utilizzo il curvilinee anche per il giro manica. Utilizzo la parte che corrisponde al giro manica e la posiziono cercando di trovare la porzione di curva che combacia con il cartamodello da ricalcare. Traccio quindi la linea. Se la linea combacia solo per un pezzo disegno la linea del cartamodello a tratti. Come vedete ho disegnato solo la partenza del giro. Prendo poi la riga universale che vi mostrerò a breve per tracciare l'altra estremità del giro che è rettilinea. Oppure potete utilizzare la parte lineare del curvilinee. Mi manca poi un piccolo pezzettino da congiungere leggermente curvo. Prendo quindi il curvilinee e cerco la curva che mi permette di unire perfettamente in maniera armonica i due pezzi di linea del giro manica. Utilizzo il curvilinee anche per unire le due estremità dell'orlo visto che ha una forma leggermente arrotondata. Trovo la porzione di curva che le unisce perfettamente senza creare spigoli e traccio la linea. Vediamo ora il righello universale. Quello che ho io è 30 x 15 cm. Ne ho in realtà un altro da 40 x 10 cm ma io preferisco il primo che vi ho mostrato. Il righello ha segnati i centimetri su tutti e quattro i lati. I centimetri sono segnati in modo da poter essere letti da versi differenti a seconda di come posizionate il righello. I centimetri su questa linea partono dal basso, su quest'altra dall'alto. In questo modo quando ruotate il righello potete leggere i centimetri in un verso o nell'altro senza dover fare sottrazioni. Avete sempre la misurazione dallo 0 in su. La stessa identica cosa la trovate nelle parti più lunghe del righello. Qui parte da 1 e arriva a 30, qui parte da 30 e arriva a 1. Inoltre assegnate le diagonali a 30, 45 e 60 gradi. Quella più utile per chi cuce vestiti è ovviamente quella a 45 gradi che serve per disegnare linee in sbieco. Ha infine le linee tratteggiate segnate per ogni mezzo centimetro, utilissimo per disegnare in maniera semplice e veloce linee parallele. Adesso vi mostro come. Devo disegnare per esempio un rettangolo 3 x 25,5 cm. Traccio prima le due linee perpendicolari e segno le misure. Sposto poi il righello. Guardo la seconda linea in cui ho segnato i centimetri, 1, 2, 3. Posiziono la linea tratteggiata del 3 esattamente sopra la linea disegnata in precedenza. Faccio combaciare bene le due linee. In questo modo riesco a disegnare una linea parallela esattamente a 3 cm. Per aiutarvi potete guardare questi punti. Le linee sono tratteggiate, quindi dovete posizionare il righello in maniera tale che la linea tratteggiata sia posizionata perfettamente sotto il tratteggio della linea sul righello. Gli spazi vuoti vi aiuteranno nell'allineamento perfetto delle linee. A questo punto posso tracciare la linea. Faccio poi la stessa identica cosa con il lato corto posizionando il righello sulla linea tratteggiata a 25,5 cm. Ecco il mio rettangolo con linee perfettamente perpendicolari creato in maniera molto veloce. Il righello essendo più piccolo della squadra e del curviline è molto comodo per tracciare piccole linee come le pence. E per tracciare tante linee perpendicolari come la posizione dei bottoni o le tacche, per esempio questa del fianco. Essendo piccolo è inoltre un strumento facilmente trasportabile che potete portare con voi ai corsi di cucito per avere uno strumento per tracciare linee. Vediamo ora come utilizzare ognuno di questi strumenti per tracciare i margini di cucitura sul cartamodello. Vediamo per prima cosa il curviline e il righello universale. Nella parte lineare del curviline trovate delle righe parallele a mezzo centimetro l'una dall'altra, fino ad arrivare a 2,5 centimetri. Come dicevamo la parte lineare è lunga 40 centimetri. Queste linee parallele le potete utilizzare per tracciare i margini di cucitura in maniera super veloce, poi vedremo come. Confrontiamolo ora con il righello universale. Anche il righello universale ha linee parallele ogni mezzo centimetro che potete utilizzare per tracciare i margini di cucitura. Io utilizzo entrambi, anche se personalmente mi trovo meglio a tracciare i margini con il curviline perché le linee sono sottili e continue e faccio meno fatica a sovrapporle in maniera precisa a quelle del cartamodello. Se devo aggiungere 1,5 centimetri di margine posiziono la linea con la scritta 1,5 centimetri, quella nera, sulla linea tracciata del cartamodello, esattamente sopra la linea del cartamodello. Le faccio combaciare. Con la matita traccio quindi il margine. Con il righello universale faccio la stessa identica cosa. Trovo la linea che corrisponde a 1,5 centimetri e la posizione esattamente sopra la linea che ho già disegnato, facendo combaciare tutto perfettamente. Traccio poi con la matita il margine. Se avete solo la righe invece sono segnati i margini un centimetro e mezzo, due centimetri, tre e quattro. Tre e quattro sono utili per fare gli orli. Non ha la guida per tracciare i margini a un centimetro. Si utilizza nella stessa maniera dei precedenti. È utile anche per tracciare margini esattamente perpendicolari come quelli sul centro davanti e l'orlo. Utilizzo la guida a 1,5 centimetri, la posiziono sulla linea del centro davanti e mi abbasso sull'orlo di 1,5 centimetri. Traccio poi le due linee perpendicolari. In questo modo ho aggiunto un margine sia sul centro davanti sia sulla parte iniziale dell'orlo. Vediamo infine finalmente il regolo. Io ne ho due esattamente identici, uno in metallo l'altro in plastica. I regoli hanno i margini di cucitura assegnati e predefiniti. Questo è un centimetro, questo un centimetro e mezzo, due, 2,5, 3,4, qui avete 5 o 6 centimetri e qui avete 3,5 centimetri. In questo punto avete anche un riferimento per tracciare linee perfettamente perpendicolari o per controllare se le linee che avete tracciato sono appunto perpendicolari. Se posso darvi un consiglio non utilizzate questi regoli sotto il ferro. Quello in plastica si deforma e quindi si rovina, l'altro diventa molto caldo. Potete utilizzarli vicino per le misurazioni ma non sotto il ferro troppo vicino al ferro. Vi farò vedere in un altro video quale regolo può essere utilizzato per la stiratura. Questi regoli sono pensati in maniera specifica per aggiungere i margini di cucitura. Se devo per esempio aggiungere 1,5 centimetri di margine seleziono la parte con indicato 1,5 centimetri e la posizione in corrispondenza della linea. Faccio un piccolo tratto, mi sposto e faccio la stessa identica cosa. Tratteggio tutto il margine. Posso lasciarlo così oppure poi unire tutti i tratteggi. Io per esempio per essere più precisa unisco sempre tutti i tratteggi. Questo regolo è utilissimo quando si devono aggiungere i margini direttamente sul tessuto se il vostro cartamodello non li prevede e non li avete aggiunti prima. Quando devo aggiungere i margini sul tessuto utilizzo sempre questo per esempio. Per questo video è tutto, spero di aver chiarito tutti i vostri dubbi sui righelli utili per la modellistica e la sartoria. Se vi è stato utile condividetelo, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un video e ci vediamo il mese prossimo per un nuovo appuntamento della rubrica Cucito mai più senza. Ciao e a presto!